giro di bova qui il sentiero che da est sono salito la giro qui e procede la mia escursione guardate come abbiamo uno splendido panorama e sono il primo oggi che salgo qui non vedo tracce non vedo momento terra perché vedete qui se lo passa qui si conosce la parte bella man mano che ci spostiamo si evidenzia questo bellissimo panorama montano lucchese perché parlo il comune di luco dei marzi e pucenze perché qui si vede una parte dell'area pucenze del comune di luco dei marzi cosa con la mia escursione piacevole oggi dovevo andare a tagliacozza invece sicuramente il mio programma ciclo turistico escursionistico ma a causa del notevole abbassamento di temperatura rinunciato quindi deve prendere dal freddo perché il freddo lo respira anche e quindi è nocivo per i polmoni per la circolazione del sangue per il cuore quindi tempo debito per fare ogni cosa